buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo qui per il pass pronostico di juventus toro il derby della mole che si giocherà alle 5 un quarto infatti abbiamo già dopo vi farò vedere messo la messo praticamente l'orario giornaliero allora vediamo come la juve secondo me giocherà ricordiamo che stasera ci sarà il video del del praticamente post delle probabili formazioni quindi ovviamente vi invito tutti poi stasera a collegarvi con fuori rosa tv per vedere quel video ovviamente come sempre anche per le solite come se le anticipazioni di mercato che sono state dette in questi giorni allora secondo me questa più o meno è la formazione questa è la formazione con la quale siamo scesi con il genoa e credo che più o meno sarà la formazione con la quale scenderemo in campo nel derby l'unico cambio è che giocherà secondo me buffon che batterà il record di il record appunto di paolo maldini come presenza in serie a poi penso che la formazione sia più o meno questa comunque allora intanto cammina divise perché la juve non può giocare sono nel derby con la maglia la seconda maglia e iniziamo ovviamente aspettiamo il collegamento juve che si affiderà sicuramente a ancora a del ict bonucci abbiamo già poche alternative poi paremoci chiaro del bonucci stanno facendo un campionato sublime rispetto l'ultimo l'ultimo pass pronostico ho eliminato la telecronaca in modo che la mia voce arrivi più pulita possibile a voi che ascoltate questo video ovviamente allian stadium è niente iniziamo la partita fino alla fine forse juventus e tra l'altro col genoa abbiamo visto una grande juve mi aspetto una grande juve anche nel derby anche se il caldo ovviamente farà la sua parte tra l'altro sarà un periodo molto molto intenso ancora perché la juve avrà tre partite una più difficile dell'altra e attenzione bernardersky gran parata di siri gru gran parata di siri gru tra l'altro ci sarà juve milan martedì quindi molto presto arrivano a molto presto e poi ci sarà juve atalanta sabato anche quella insomma già abbastanza presto e quella è la partita che sinceramente temo più di tutti insieme al milan più che il derby temo milan e atalanta e credo che il campionato della juve possa giocarsi in queste tre partite se la juve dovesse ottenere gli stessi risultati in queste tre partite che otterrà la lazio io credo che la juve possa veramente avvicinarsi in maniera prepotente al titolo di campione d'italia non credo che l'inter possa rientrare non perché l'inter si è scarsa ma perché ne ha due davanti e credo che sia oggettivamente improponibile pensare attenzione al toro che prova a farsi vedere buffon diceva appunto che credo che il l'inter ne abbia due davanti quindi sarà molto difficile che sia juve che lazio fermano se poi mi dite se l'inter può superarmi una può anche essere ronaldo 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 siri siri che parata siri che non è stato non è sembrato in formissima in questo inizio di inizio di ripresa di campionato post cobit nonostante questo sta sicuramente oggi in questo per sprono se lo fa associato grandi parate ma anche nella realtà vedrete che parate che farà sono il toro rischia bentan curva a pressare il toro ne esce molto bene però esce molto bene il toro qua perché la palla poteva la pressione di bentan cur poteva oggettivamente creare molti problemi per bernardeschi tutto regolare non è fallo su bernardeschi bremer o linea toro che a me è sembrato oggettivamente un minimo un minimo è in difficoltà contro la lazio fisica e psicologica sicuramente troveranno stimoli post cioè stimoli da derby sicuramente ronaldo tira giù ronaldo va sulla fascia ronaldo resiste ronaldo gran giocata in mezzo è anticipato di un pelo rabbio la palla rimane lì e il toro riesce in qualche modo a buttarla fuori finisce il primo tempo 0 a 0 tra juve e toro partita che non si sblocca vediamo il secondo tempo come verrà vissuto dalla juve che deve assolutamente tentare il tutto per tutto diciamo che la juve ha un'arma che il toro non ha che si chiama dagas costa che ovviamente può essere come ho detto mille volte un'arma potentissima soprattutto in questo periodo attenzione a bernardeschi bernardeschi ma sul fondo bernardeschi non è una brutta giocata pallone in mezzo ma non è da nessuna parte il pallone che non va né da uno né dall'altro passa esattamente in mezzo il toro esce bene palla al piede bravo bravo anche quadrato qua a recuperare palla bernardeschi bernardeschi vede di bala lo va a servire di bala si ferma esagera di bala è facile preda di un culo poi di bala riesce a rallentare l'uscita ma è facile preda del toro adesso cambia la juve mettiamo dagas costa al posto di bernardeschi per dare gli strappi di solito dagas costa non gioca in questa corsia gioca nell'altra ma a pes io lo metto sempre qui perché semplicemente lo dico proprio popale è un giocatore che c'è nella mia corsia quella più vicina a me posso gestirmelo meglio e potenziarlo in pieno bentancur vince il contrasto palla per rabbio rabbio gira sbaglia tutto rabbio una palla pallaccia di rabbio che avevamo visto migliorare col genoa speriamo che nella realtà possa migliorare veramente bentancur ronaldo 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 fa la salvata dal toro che sta provando il tutto per tutto in difesa e c'è anche berengard dentro lukic di bala di bala la mette in mezzo non era una brutta idea ma il toro fa veramente buona guardia la juve sta facendo una fatica immensa a trovare gli spazi il toro gioca anche con calma tejlicht lukic tejlicht poi quadrato gira de silvestri rabbio si fa ancora superare attenzione al toro con verdi con edera che tiene il pallone in maniera meravigliosa ma poi arriva bentancur un po stanco bentancur ma riesce a recuperare palla dalla ronaldo che riesce a mettere in movimento daglas costa daglas costa è più fresco prova a tagliare daglas costa non è male daglas costa la spara in curva e questa è un'occasione veramente importante per la juve per daglas costa che errore ragazzi che errore quasi a tu per tu con sirigu siamo ormai all'ottantatresimo il risultato sta andando avanti con un toro che caparbiamente resiste bentancur bentancur di bala di bala sbaglia il pallone di bala di bala negativo oggi veramente qui poi dell'hit quadrado ronaldo di bala di bala vede la porta di bala è sul muro difensivo di un toro caparbio dietro stoico in difesa palla fuori e finisce qui juve toro finisce 0 a 0 e io termino anche questo pass pronostico un po' di sfortuna speriamo ovviamente che nella realtà non si tramuti in quello che abbiamo visto oggi ma che si riuscirà a vincere nella realtà chiudo qua il video mi raccomando stasera ci sentiamo sempre qua su fuori cosa tv per le probabili formazioni del derby della mole ciao a tutti